Non conosco bene il mondo dell'arte, ma vorrei cominciare a capirci di più. C'è un'opera d'arte che preferisci? In particolare io amo molto gli artisti perché sono loro che fanno le opere d'arte. Non ne ho uno soltanto, ma ti faccio una breve lista. Mi piace molto Leonardo da Vinci, Tiziano, Pollock, Monet, Vangi, Michelangelo. Insomma, la lista è molto lunga. Ma quanti? Allora, mi consigli qualcuno in particolare per iniziare? Beh, per iniziare io mi ricordo che tu ami Tiziano. Quindi se ti piace Tiziano, ti consiglio vivamente di guardare, dare un'occhiata a Caravaggio, un genio della pittura. Caravaggio, va bene, lo farò. Infatti il mio quadro preferito è Bacco e Arianna. Lo conosci? I colori e la storia è così romantico. Ah, sono d'accordo con te su Tiziano per quanto riguarda anche Bacco e Arianna. È un quadro bellissimo. Allora guarderò anche Caravaggio subito. Accidenti. Devo andare via. È stato un grosso piacere parlare con te, Luca. Il piacere, Monica, è tutto mio. Vorrei sapere di più della tua vita in Italia e in Giappone. Allora parliamo di nuovo. Presto. Certamente. Monica, la porta è sempre aperta. Oh, grazie ancora. Ci vediamo. A presto. Ciao. Grazie ragazzi.